Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come risolvere il problema riguardo al controller che non funziona su Ghost of Tsushima quindi in questo caso per risolvere il problema assicuriamoci prima di collegare il nostro in questo caso se ti ritrovi il controller connesso ma sul gioco non funziona quindi adesso vado a collegare il mio controller quindi attraverso la chiavetta wireless lo attivo vado direttamente su configura dispositivi gioco USB periferiche di gioco come puoi vedere se è connesso così il controller USB controller vado direttamente su proprietà per fare un controllo se il controller qua funziona funzionano tutti i tasti andiamo anche su avanzate periferica preferita e inserite il controller USB che avete connesso se non dovesse funzionare possiamo sempre andare su gestione dispositivi quindi tasto destro su start vai su gestione dispositivi periferiche Xbox 360 questo è il controller Xbox 360 per Windows che me lo rileva in questo modo però non è Xbox tasto destro sopra aggiorno a driver cerca i driver del computer scegli un elenco di driver disponibili nel computer ed eccolo qua faccio avanti e installo così il driver Windows ha completato l'aggiornamento dei driver chiudo qua bisogna riavviare il computer adesso se non dovesse funzionare puoi sempre disabilitare il controller e fare abilita di nuovo una volta fatto non ci resta che entrare nel gioco e vedere se funziona quindi come puoi vedere il controller funziona se vado su opzioni sotto c'è scritto a seleziona b esci impostazioni privacy mi sposto così con le frecce a sinistra gamepad ed eccolo qua per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video iscriviti lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao ciao